Salve amici del segreto, come sapete ormai Neville Goddard è uno dei miei autori preferiti. In questo video andremo a vedere un altro dei suoi libri, Sentirsi e il segreto, un libro che trasmette una forza incredibile e che stimola la vostra mente man mano che leggete. Vi consiglierei di comprarlo e di leggerlo anche dopo aver ascoltato il mio riassunto. Cominciamo subito. La legge e il suo funzionamento. Quello che attira di Goddard e di James Allen è che le loro frasi sono molto profonde e bisogna spesso fermarsi a riflettere. Non a caso abbiamo visto molti dei loro libri in questo canale. Goddard cerca di motivare il lettore ad agire ma anche a riflettere su quello che legge e sulla vita in generale. Il mondo e tutto ciò che è in esso è la coscienza condizionata dell'uomo, oggettivata. La coscienza è la causa e la sostanza del mondo intero. Quindi è la coscienza che dobbiamo rivolgerci se vogliamo scoprire il segreto della creazione. La coscienza si trova dentro di noi, è la parte che interpreta questo video e i significati che accadono nella vita. Si basa su quello che già sappiamo. Ci sono vari livelli di coscienza però. Dipende dal grado di intuizione, di conoscenze, di consapevolezza che una persona ha. Maggiore questo grado, più facile sarà per questa persona affrontare grandi livelli di complessità. La coscienza è la sola e unica realtà, non in senso figurato ma in realtà. Questa realtà può essere paragonata per chiarezza ad un flusso che si divide in due parti, la coscienza e il subconscio. Per poter operare con intelligenza, la legge della coscienza è necessario comprendere il rapporto tra coscienza e subconscio. Abbiamo spesso detto che la coscienza è la parte della nostra mente che analizza quello che accade e che dà un significato a tutto quello che accade, sostanzialmente. Basato ovviamente su quello che analizza e su quello che già sa. Nel formare la coscienza che oggi abbiamo hanno contribuito ai nostri genitori, insegnanti, amici, eccetera. Le cose che loro ci hanno detto riguardo a come funziona il mondo, a come stanno le cose, a cosa credere, a cosa no, ad essere realisti, a non sognare troppo, eccetera. Sono tutte frasi che abbiamo ascoltato da loro nel corso della nostra vita. Il subconscio è la parte del nostro essere che è in contatto con l'intelligenza infinita. Questi autori descrivono questa intelligenza come una sorta di potere immenso che dirige l'universo. Il subconscio entra in contatto con questo potere per realizzare ciò che la nostra coscienza le trasmette. Ricordatevi che il subconscio non ha filtri, diversamente dalla coscienza, e crede a tutto quello che la coscienza trasmette senza analizzarlo, continuando a lavorare per realizzare queste informazioni. Per riprogrammare il subconscio noi dobbiamo riprogrammare la coscienza. Come? Decidendo di credere a quello che ci conviene credere. Non ponendoci limiti. Accumulando informazioni che sono in sintonia con i nostri obiettivi. Stando lontano dalle persone che ci dicono che non ce la faremo mai, che quello a cui puntiamo non è fattibile, eccetera. Chiudendo quindi la mente da qualsiasi informazione destabilizzante. Ricapitolando tutto in una frase, la coscienza genera idee e le imprime al subconscio. Il subconscio riceve queste idee e dà loro forma ed espressione. Il subconscio non genera idee, ma accetta come vere quelle che, le idee che la coscienza sente e crede essere vere. e in un modo noto solo a se stessa oggettiva le idee accettate. Quindi attraverso il suo potere di immaginazione e la sua libertà di scegliere l'idea che vuole intrattenere, l'uomo ha il controllo sulla creazione. Il controllo del subconscio si realizza attraverso il controllo delle proprie idee, dei propri sentimenti. Essere padroni dei propri sentimenti non significa trattenere o sopprimere il proprio sentimento, ma piuttosto disciplinare se stessi per immaginare e intrattenere solo il sentimento che contribuisce alla propria felicità. Nessuna idea può essere impressa nel subconscio finché non viene sentita in modo molto profondo, ma una volta sentita, sia essa buona, cattiva o indifferente, deve essere espressa. Il sentimento è il solo e unico mezzo attraverso il quale le idee vengono trasmesse al subconscio. Per impressionare il subconscio con lo stato desiderato, devi assumere il sentimento che proveresti se avessi già realizzato il tuo desiderio, ossia sentire già la gioia, la felicità, l'appagamento che sentireste se il desiderio che avete fosse già realizzato. Questo perché il subconscio non distingue tra presente e futuro e di conseguenza lavorerà per rafforzare la vostra visione. Oltre ad influenzare il subconscio, questi sentimenti positivi e puri aiutano anche a stimolarvi, a combattere ad esempio per i vostri sogni e a non mollare alle prime difficoltà che incontrerete. Dormire La padronanza dell'autocontrollo dei vostri pensieri e sentimenti è il vostro più alto risultato. Tuttavia, finché non si aggiunge un perfetto autocontrollo, in modo che nonostante le apparenze sentiate tutto ciò che volete sentire, usate il sonno e la preghiera per aiutarvi a realizzare gli stati desiderati. Queste sono le due porte d'accesso al subconscio, il sonno e la preghiera. Il sonno e la preghiera sono i momenti in cui si ha maggiore accesso al potere del subconscio, perché siamo del tutto liberi dalla razionalità che ci caratterizza e di conseguenza possiamo comunicare con l'intelligenza infinita. Il sonno occupa un terzo del nostro soggiorno sulla Terra. È la porta naturale verso il subconscio, quindi è il sonno che ci preoccupa. I due terzi della nostra vita cosciente sulla Terra si misurano in base al grado di attenzione che diamo al sonno. Dobbiamo dare valore alla nostra giornata e alle esperienze che abbiamo perché esse andranno ad influenzare la qualità del nostro sonno. Le condizioni e gli eventi della vostra vita sono i vostri figli formati dalle impronte del vostro subconscio nel sonno. Sono stati fatti a immagine e somiglianza della vostra più intima sensazione di voi stessi. Una volta addormentato, l'uomo non ha più libertà di scelta. Tutto il suo sonno è dominato dal suo ultimo concetto di sé. Ne consegue quindi che egli dovrebbe sempre assumere la sensazione di realizzazione e soddisfazione prima di andare a dormire. Dobbiamo dare valore a qualsiasi momento della nostra giornata e a quello che abbiamo, a quello che impariamo, alle nostre relazioni in modo da poterci sentire realizzati e felici prima di andare a dormire. Porteremo questi sentimenti con noi nel sonno e ci sveglieremo sentendoci meglio. La preghiera La preghiera è un'illusione del sonno che diminuisce l'impressione del mondo esterno e rende la mente più ricettiva alla suggestione dell'interno. La mente in preghiera è in uno stato di rilassamento e di ricettività simile alla sensazione raggiunta poco prima di addormentarsi. Si tratta di uno stato mentale di meditazione. Ciò che diciamo durante la preghiera influenza il nostro subconscio ma anche il nostro sistema di credenze e la nostra fede assume un potere creativo. La preghiera è una forma di autosuggestione come le affermazioni che leggiamo per motivare noi stessi. La preghiera non si basa su una richiesta che facciamo per ottenere qualcosa di cui non siamo degni ma nasce da uno stato di fede ed è proprio questa fede che è in grado di spingere il nostro subconscio a rimodellare la nostra realtà. La tua preghiera deve essere esaudita se presupponi il sentimento di essere già in possesso del tuo desiderio o obiettivo. Se non vi sentite già in possesso di quello che volete significa che la vostra fede non è abbastanza forte e che state chiedendo con incertezza. Il momento in cui accetti il desiderio come un fatto compiuto il subconscio trova i mezzi per la sua realizzazione. Per pregare con successo devi cedere al desiderio cioè sentirlo esaudito. L'uomo perfettamente disciplinato è sempre in sintonia con il desiderio come è fatto compiuto. Quindi bisogna vivere con una forte fede e positività nei confronti del vostro futuro. Sentirsi C'è un sentimento definito associato ad ogni idea nella mente dell'uomo. Come potete notare da quanto detto finora non ha importanza solo quello che pensate ma anche quello che sentite. Dovete esercitarvi con tutti questi concetti. La vita è un viaggio basato sulla continua esercitazione. Cerchiamo in continuazione di migliorare noi stessi, i nostri rapporti, la qualità del nostro lavoro e anche della nostra vita. Non si attrae mai ciò che si vuole ma sempre ciò che si è. Abbiamo sottolineato spesso la frase Sai quello che pensi. Nel libro La legge dell'attrazione di Esther e Jerry X abbiamo visto che noi esseri umani siamo in grado di attrarre ciò a cui pensiamo. Possiamo volere o non volere qualcosa se ci pensiamo la attireremo. Per questo è importante vivere in pace con se stessi e perdonarsi per gli errori fatti e guardare al futuro con ottimismo. Tutto ciò di cui puoi avere bisogno o che desideri è già tuo Non hai bisogno di un aiutante che te lo dia È tuo adesso Chiama i tuoi desideri in essere immaginando e sentendo il desiderio esaudito Quando il fine viene accettato si diventa totalmente indifferenti ad un possibile fallimento perché l'accettazione del fine è il mezzo per raggiungere quel fine La fede e i sentimenti forti sono ciò che spingono gli esseri umani oltre a qualsiasi ostacolo Questo era il libro Sentirsi il segreto di Neville Goddard Uno dei suoi libri più belli ed importanti Un libro che ci aiuta e ci dimostra in modo chiaro e profondo come si possa realizzare qualsiasi sogno e come si possa vivere felici se si riesce a capire la forza e l'utilizzo della fede e dei sentimenti Spero che questo video vi aiuti a trovare nuove prospettive di vita e a realizzare i vostri obiettivi Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video Ciao Ciao